Tre gol annullati, due espulsioni e il risultato che si ribalta negli ultimi sette minuti. Succede di tutto in Follonica-Gavorano-Pianese. Partita di scena al mal servisi Matteini in un pomeriggio caldissimo sotto la direzione di Paolo Grieco di Ascoli. 3-5-2 per gli ospiti, 4-3-1-2 per i padroni di casa. Modice non al 100% della forma fisica parte dalla panchina, Regoli lo sostituisce nel ruolo di trequartista. Nella prima mezz'ora il Follonica-Gavorano sembra giocare meglio, ma la Pianese è viva e si vede annullare due gol per fuori gioco, da prima al diciannovesimo, rete di Le Donne, poi al ventinovesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Proietto, con il guardaline che si trova a due passi dalla zona dell'azione e che alza subito la bandierina al momento del colpo di testa del giocatore della Pianese. Il Follonica-Gavorano termina il primo tempo in calo e la ripresa inizia sulla stessa falsariga, con lo sicco che prova comunque a sorprendere De Fazio. Al cinquantaseiesimo il portiere della Pianese respinge. I padroni di casa tuttavia sembrano quasi attendere la zampata avversaria che di fatti arriva al sessantesimo quando gli ammiatini aprono la difesa del Follonica-Gavorano come una scatoletta di tonno, Le Donne la mette dentro e fa 1-0. Mister Masi cambia Auriglio con Grifoni e Pino con Suare e ridisegna i suoi con una sorta di 4-3-3 dove Grifoni veste il ruolo di mezzala ed è chiamato a conferire brillantezza ad una squadra che complice il caldo e la stanchezza rischia di allungarsi. È proprio sfruttando un'azione che parte dalla zona di competenza di Grifoni che Suare mette in rete il gol del pareggio quando scocca il novantesimo 1-1. L'arbitro intanto ha concesso sei minuti di recupero e nel primo giro di lancette dell'extra time succede il fattaccio con Dierna e Cocu che vengono a contatto. Rosso diretto per l'attaccante della Pianese che dunque rimane in dieci uomini. La partita si infiamma, viene espulso anche l'allenatore in seconda del Follonica Gavorrano Federico Callai. Al novantaquattresimo minuto i Maremmani che ora vogliono sfruttare la superiorità numerica ed attaccano a pieno organico vanno in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Si giunge così al novantaseiesimo quando il solito Grifoni pennella per Regoli. Il colpo di testa di quest'ultimo vale la rete del sorpasso e dell'apoteosi. Rosso-bianco-blu finisce incredibilmente 2-1 per il Follonica Gavorrano. Grazie a tutti.